Oggi vi parlerò di Xiaomi e Laika, subito dopo la sigla. Ciao a tutti amici di Otro Sguardo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di Xiaomi e Laika, perché Xiaomi e Laika lo scoprirete a breve, o a breve, prima di non avervi detto, come sempre, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per essere avvisati ogni volta che Otro Sguardo eserisce il nuovo video. E detto questo, iniziamo. Iniziamo, perché da dire c'è veramente tanto, quindi mettetevi comodi sul vostro divano, sulla vostra poltrona, sulla vostra sedia, dove state state e seguite questo video fino alla fine. Perché è un video, sì, mi vedete solo a me, parlo solo io, ma vi spiegherò una cosa che forse non tutti sanno, o meno se la sanno, magari non la sanno bene. Quindi voglio spiegarla bene. Allora, parto dal primo punto principale, perché voglio essere chiaro che Xiaomi e Laika non mi sta pagando per fare questo video. Ecco, partiamo da quel primo punto, perché lo sai, a volte molti male capiscono, ecco, lo dico in modo... malcapiscono, quindi pensano che no. Sto facendo questo video per condividere con voi un qualcosa che riguarda appunto la fotografia, perché è questo che tratta il mio canale, la fotografia e il video. Questo video è proprio di quello che andremo a parlare, di fotografia soprattutto, ma anche che può centrare con il video, perché con lo smartphone si può fare sia video che foto, ma in realtà è concentrato più sulla foto, ma in realtà tratta in ambe le parti. in ambe le parti. Quindi, andiamo alla parte concreta. Xiaomi, negli ultimi due anni... Ah, parto... scusate, stavo, diciamo, confondendo. Allora, partiamo dal primo punto, anzi dal secondo punto, che Xiaomi ha sempre fatto quello che succede sempre nei miei video, nel bello dei video, e che mi perdo. Non so se siamo al secondo o al terzo punto, comunque sia il bello è proprio questo, che ci facciamo anche una risata, quindi... C'è sempre un video, invece è bello anche ridere. Quindi, al di là dei punti, adesso vi dico un'altra cosa. Xiaomi è sempre stata per me, secondo me, infatti l'ho detto nell'ultima live, chi non l'ha vista, andate nella live, seguite, l'ho detto che se non fosse che esiste Apple, la mia marca, che prenderei, la marca per gli smartphone, chiaramente, per la fotografia e il video mobile, che prenderei in considerazione, sarebbe Xiaomi. se non ci fosse Apple. Ma siccome c'è Apple, sapete che io sono un appassionato Apple, dell'ecosistema Apple, come vedete già alle mie spalle, non c'è bisogno, ma si vede già, ma lo dico che sono un appassionato. Ma al di là di questo, a me, oltre a Apple, Xiaomi mi piace molto. Ma piace Xiaomi non solo a livello di smartphone, di tablet, mi piace anche a livello di altri prodotti. Infatti io, non smartphone, non tablet, perché possiedo quelli dell'Apple, ma di altre cose possiedo Xiaomi. Xiaomi, per esempio, o uno smartwatch di Xiaomi, o anche altre cose di Xiaomi. Quindi, non ho solamente, Xiaomi non fa solamente smartphone. In questo caso, non c'entra niente con l'argomento di questo video, quindi non voglio entrare, poi magari richiederò un video a caso, a parte, con i migliori prodotti Xiaomi, che non sono solo smartphone e tablet, però, al di là di questo, torniamo a noi, al discorso, che è quello della fotografia e il video. Xiaomi è sempre stata, comunque, sempre l'ho pensato e lo penso ancora, è sempre stata un'ottima marca per quanto riguarda la foto e il video, soprattutto le foto, perché mi sono... Xiaomi è sempre... mi ha sempre colpito la qualità delle foto, e, chiaramente, insieme a Apple, perché non... comunque, secondo me, ma il mio pensiero Apple è insuperabile, soprattutto per la parte video, ma negli ultimi tempi, anche con la parte foto, si sta avvicinando. Però Xiaomi, per il prezzo e la qualità prezzo, per la... prezzo e la qualità, è, secondo me, un'ottima alternativa, perché c'è tutta. Ma, da due anni a questa parte, non so se sono due, se sono tre, ma comunque, negli ultimi due o tre anni, ha stretto una collaborazione con Laika. Una azienda, se non sapete cos'è Laika, è un'azienda che... che fa lenti, macchinette fotografiche, quindi specializzata in questo. è una... e sta dentro i nuovi Xiaomi. Non vi dico i modelli, ma basta scrivere Xiaomi con sensori Laika, escono tutti i modelli, senza problemi, anche andare sul sito, non vi costa niente, vedete gli ultimi modelli, anche perché ogni smartphone che ha la collaborazione con Laika, c'è il bollino Laika, quindi non c'è il pericolo che sbagliare. Quindi, perché per leggerlo devono mettere, non è che... non c'è niente, quindi... o comunque, se non c'è il bel bollino, comunque c'è scritto. Non che gli altri smartphone che non abbiano la collaborazione Laika sono da buttare, perché, devo essere sincero, in famiglia, danno io, perché possiedo iPhone, però in famiglia hanno Xiaomi. Devo essere sincero, hanno uno Xiaomi 11S, hanno uno Xiaomi 11 Pro, e, devo essere sincero, le foto non sono brutte, e parliamo chiaramente di un fascia media, ma non sono brutte, non sono da buttare, ma, non so, cioè, non sono da buttare, nel senso che non sono proprio... cioè, come devo dire, in alcuni casi, si comporta proprio bene la fotocamera, ecco, ho fatto anche un video in notturna, se volete vederlo, vedetelo, perché mi ha colpito molto la 108 megapixel, l'11S, not 11S, ma, non voglio entrare in altri discorsi, continuiamo questo discorso, perché già è lungo di suo, quindi, non voglio dilungarmi in altri discorsi, come amo fare di solito, però, ci tengo a dire che Xiaomi, comunque, anche quando non ha stretto la collaborazione con lei, a Laika, a livello foto, ma soprattutto foto, ma anche video, un po', ma soprattutto foto, si è sempre comportata bene, ma gli ultimi modelli, che possiedono la collaborazione con Laika, devo essere sincero, ma proprio sincero, 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 sono veramente formidabili, perché i sensori Laika, sono una cosa pazzesca, e, non dico che sostituiscono la macchinetta fotografica, perché, chi mi segue il mio canale, sa bene come la pensa, come la penso io, però, perché uno smartphone, non può sostituire una macchinetta fotografica, anche gli ultimi iPhone, che fanno un RAW, pazzesco, d'alta qualità, come una macchinetta fotografica, non sostituiscono la macchinetta fotografica, secondo me, anche se comunque ha i suoi vantaggi, in alcuni casi, ma poi appena mi arriva il mio, perché io ancora, non ho iniziato a fare video su iPhone 15 Pro Max, perché, ancora mi deve arrivare, mi arriverà, in futuro, nel senso che, sta in programma, però, per gennaio, febbraio, dovrebbe arrivarmi, il mio iPhone 15 Pro Max, quindi, ancora, non so, però, al di là di questo, cioè, non so, quando arriva di preciso, può essere gennaio, può essere febbraio, ma quando arriverà, sicuramente, ci hanno un sacco di contenuti, dove vi parlerò, veramente, di un sacco di cose, vi farò, del telefono, della fotocamera, modalità di tutte le modalità, di tutti i tipi di fotocamera, vi farò, veramente, un sacco di cose, ma adesso, torniamo in noi, perché, non stiamo parlando di iPhone, stiamo parlando di Xiaomi, e non voglio perché, ogni volta che parlo di Xiaomi, o comunque, di qualsiasi altra marca, devo entrare sempre, con un iPhone, perché, proprio prende, la vita di nuovo prende, comunque, al di là di questo, strammatizziamo un po', torniamo a noi, e continuo a dirvi, che, sapete bene, chi mi segue, come la penso, io non, non sostituirei mai, comunque, una macchinetta fotografica, è la macchinetta fotografica, però, a volte, soprattutto, nel 2023, che sono usciti, molti smartphone, non parlo solo di Apple, ma in generale, molti smartphone, che davvero, fanno foto, di un certo livello, alla fine, a volte, si può fare, si può prendere, si può fare, soprattutto, se è usato bene, in modalità pro, ma soprattutto, non in modalità pro, manuale, intendo anche, a modalità pro, con, che so, con i file raw, perché, è quella che è l'importanza, di lavorare con il smartphone, poi farò un video, su questo, perché, molti pensano, lavorare in pro, con uno smartphone, significa, manovrare, i settaggi, ma no, perché, la cosa buona, di uno smartphone, è proprio, quello del punto scattare, del punta, e scattare, e, quindi, almeno, quando si usa, lo smartphone, la cosa comoda, è, lavorare in raw, ma, senza stare a pensare, ai settaggi, quindi, far fare tutto, lo smartphone, e, la cosa che ne prevale, deve prevalere, è l'occhio, e basta, questo, è quello che penso, ma arriverà un video, dedicato, quindi, torniamo, torniamo in noi, e, ho detto, che, di mettervi comodi, perché, è un video, che prende, tanti discorsi, quindi, però, torniamo a quello principale, al di là, se, se sostituisci o meno, ma, ne arriverà uno dedicato, poi capirete, cosa voglio dire, in questo video, ma, laica, è laica, è nutele, prendermi, prendervi, in giro, laica, è sempre stata, un marchio, importante, della, diciamo, della fotografia, o meglio, uno dei tanti, non l'unico e solo, ce ne sono tanti altri, come, Nikon, Canon, altri, che non mi sto venendo, in mente, però, devo essere sincero, ce ne sono tanti, marchi, ottimi, nell'ambito fotografia, che fa lenti, che fa macchinette fotografiche, fa tante cose, ma, laica, è una di queste, che, ha sempre fatto, delle ottime macchinette fotografiche, delle ottime cose, e delle ottime, performance, quindi, sapere che, degli smartphone, abbiano dei sensori, laica, a me mi casa, infatti, lo dico qui, non l'ho detto all'inizio, mannaggia, però, lo dico qui, e, io, in futuro, se riuscirò, perché, siccome, le cose, non me le regalano, me le devo comprare, quindi, se riuscirò, col tempo, mi farò, un secondo smartphone, con un Xiaomi, quindi, mi farò, un secondo telefono, una seconda scheda, con uno Xiaomi, con sensore laica, vi dico questo, uno Xiaomi, con sensore laica, perché, non, non, sono veramente, un gasato, ho avuto modo, di provarne qualcuno, col sensore laica, devo essere sincero, mi ha stupito, stupito, nel vero senso della parola, perché, la qualità, c'è, c'è tutta, e, ci sono dei pro e contro, ma come tutte le cose, non è niente, tutte le cose, hanno i pro e contro, quindi, anche, gli ultimi Xiaomi, con laica, ha dei pro e contro, in ambito fotografico, e video, però, devo essere sincero, si comportano bene, soprattutto, soprattutto, si comportano bene, in notturna, perché, hanno una modalità notturna, veramente, da capogiro, quindi, niente, io, concludo, col dire, che se qualcuno di voi, che sta vedendo questo video, ha la possibilità, perché questa, è una chiacchiera, condividere con voi, appunto, questa cosa, ha la possibilità, di acquistare uno smartphone, cercate di acquistare, quello con, con laica, ci sono i modelli, più vecchi, quindi, non per forza, dovete acquistare l'ultimo, che costa 5-600 euro, però, acquistate quello, con il bollino, laica, perché, lì, è che trovate, la trovate, in uno Xiaomi, le foto sono comunque, performanti, ma, in uno Xiaomi, con il bollino, laica, troverete, la qualità, veramente, superiore, quindi, detto questo, vi saluto, al prossimo video, con oltre, lo sguardo, con il bollino,